Cappellano storico del Beccaria, lei interverrà questa mattinata così importante, quali sono secondo lei le emergenze che ancora toccano questo comparto? La grande emergenza è avere un direttore fisso, non un giorno alla settimana ma sei giorni alla settimana, perché se non c'è un perno intorno al quale gira tutta la progettualità e le tante energie che qui ci sono, finisce che tutto si sfalda e siamo a eventi come quelli del passato dove a un certo punto i ragazzi erano abbandonati a se stessi e finivano per diventare gli gestori dell'istituto. Quindi questo istituto è ripartito bene quando è arrivata la dottoressa Buccolieri, tre mesi fa, quattro mesi fa, adesso siamo arrivati a un giorno, bisognerà che tutti insieme facciamo un po' il conto su quello che c'è e con la direttrice bravissima che indubbiamente è molto efficace, molto efficiente, è arrivata qui, ha sedato le varie turbolenze che c'erano, quindi accendendo speranza. Adesso qui bisogna riuscire a rilanciare la speranza per questo posto che è un posto di detenzione ovviamente, ma qui noi abbiamo soltanto ragazzi e ragazze appartenenti a famiglie povere o poverissime e quindi se anche questo posto che potrebbe essere di rilancio diventa povero e poverissimo abbiamo anche finito di essere qui con significato.